bella a tutti i forniters benvenuti e bentrovati sull'emotecoci in questo video per andare a vedere i negozi oggetti di oggi 21 aprile 2024 il ritorno di eminem slime shadi con regalati gli slim shadi le mode il bundle slim shadi con rap boy doppio stile senza mascherina slim shadi triplo stile con cuffie e poi shadi demone l'emote con quale si trasforma dorso decorativo un box di shadi doppia motosiga di shadi come pippone e poi l'emote arriva slim shadi mai più marcia torna anche questo ovviamente radio mette con eminem su me più marcia la triplice copia il piacestino ovviamente senza con senza cappello e i tre stili e marshal noir e gli altri dorso decorativo sguardo del corpo qua carino icone primi affilate eccolo qua deltaplano corvo express e colorazione diciamo caccia a reazione bello questo deltaplano e il dorso decorativo mom's spaghetti la mamma anche questo molto belle cariere molto fumante ragazzi poi abbiamo parlato c'è valvi di scheletro inferno vita che c'era stata qualche giorno fa corriamo qui che li abbiamo già visti scorsi e poi arriva finalmente il bundle esploratrice curiosa questo lo aspettavamo da dal 26 marzo all'incirca arriva eccola qua curiosa questa bellissima skin col suo dorso decorativo zaino d'esplorazione il piccone lancia della ricerca molto bella eccola qua quindi finalmente è arrivata anche questa qua questa skin qua è la novità di oggi quando il clan della neve con pie glaciali in doppio stile bellissimo mi medica esilio però bella e stile lego dorso decorativo stella delle nevi la versione femmine snow strike senza avrò il doppio stile dorso decorativo lama di neve piccone lama inversa molto bello questo piccone molto molto lucente nel tablano lama di neve che questo è un po stile già visto quando la fette con testa di pomodoro quindi con tutti gli incarichi di testa di pomodoro la versione femminile pomina il piccone taglia pizze doppio questo qua piccone axeroni che avevamo visto i giorni scorsi del tablano formaggio extra e l'emote pizza party 2400 mi bacco per questo bundle contiene anche degli incarichi per andare a fare il secondo stile a sbloccare il secondo stile di testa di pomodoro l'avviatore bellissimo l'avviatore eccolo qua queste skin davvero cattive spira turbo forza decorativo non male e poi il ritorno ragazzi di incubanti l'emote più rara di oggi il cosmetico scusate più raro di oggi mancava da ben 377 giorni quindi un anno completa il suo e la skin il dorso decorativo orecchiotto ovviamente c'è anche lo stile lego poi abbiamo coccolone costume 1200 vbac e il dorso decorativo fuori infranto molto bello poi abbiamo le motte contagioso scendiamo con milite d'assalto costume da 800 vbac il dorso è anche versione lego finora non ci sono versioni speciali e anche costume criterio bellissimo ragazzi mi piace questo criterio sembra quasi personaggio degli anime tanti anni fa stabilizzatore dorso decorativo costume di jamila bellissimo anche questo ragazzi doppio stile di reattività oppure no quella che c'è nei pantaloni più basso la reattività dorso decorativo kit dell'avvoltoio anche questo con o senza reattività e poi costume max milian bello ragazzi carino davvero dorso decorativo para rifornimenti e poi abbiamo il piccone fate corvo reliquie doppio cioè reattivo oppure non reattivo e il calcio da acco vacciati c'era anche ieri questa se non erro ci andiamo ancora con il doppio gioco questo ma c'è stato poco tempo fa questo bellissimo costume doppio stile di medica doppio gioco verso decorativo uscio floreale molto bello questo skin abbiamo velocità doppio stile avio incubo torso decorativo daino bombardiere abbiamo stella ammantata bellissima skin con il dorso decorativo baratro scurissimo non c'è il piccone poi abbiamo renuvo e il terzo decorativo staffetta bionica mentre in particolare eccolo qua qui abbiamo a stile base per l'ego e stile esclusivo quindi vediamo se anche per loro no e anche per velocità e anche per doppio gioco ok icone sinapsi bionica icone di renuvo e poi abbiamo tutte le cose degli altri giorni bando lady gaga appena un giro di paletta ok tutte le tracce gem bando legate un po' di iseldur burger manzo boss cosmetico più meno raro di oggi e tutti i soliti pacchetti diciamo extra pacchetto incarichi principianti il video all'interno del nostro canale così come il pacchetto incarichi stella strillante e ovviamente ci salva il mondo winderman 2.0 peccato perché oggi ci aspettavamo poteva anche uscire kratos in quanto è l'anniversario del gioco god of war dove è presente appunto kratos quindi poteva essere un'occasione per andare ad inserire kratos nel negozio oggetti di oggi invece purtroppo non è stato inserito qui chiudiamo il negozio oggetti di oggi ragazzi mi raccomando un bel mi piace iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti ciao a tutti